Andiamo avanti con la musica, spero di pronunciarlo bene, lei è una giovane artista, sto parlando di Marzia. Marzia dove sei? Anche per te il pacco scenico di Italia Mia e poi dopo ci conosciamo meglio. Suonare gli altri banano, mi piace farmi male e ricordare la felicità cos'è. Sola, anche prima di dormire, lo vedi fuori in piove, non migliora neanche quando ci sei tu, non cerco di più. E' meglio se tu ora vai, capirai che non ci sei stato mai. Lo vorrei dare a te, quello spazio che ti serve ma non c'è. E questo blu, questo olio blu, sola, gli altri ballano, è così che andrà a finire. Succede solo a quelli come me, non cerco di più. E' meglio se tu ora vai, capirai che non ci sei stato mai. Io vorrei dare a te, quello spazio che ti serve ma non c'è. In questo blu, questo mio blu, questo mio blu. Succede solo a te, quello spazio che ti serve ma non c'è. Io vorrei dare a te, quello spazio che ti serve ma non c'è. Grazie. Marzia, aspetta che sposto un po' l'asta. Volevo subito chiederti, guardando ovviamente in telecamera, perché questo nome? Perché è un soprannome che mi hanno dato i miei amici e che ho già da qualche anno, quindi ho deciso di usarlo come nome d'arte. Complimenti anche per la Miss, molto fin fatal. Senti, che cosa ti ispira? Come personaggio? Come personaggio nel mondo del canto. Allora, io ho il mio podio. Ah, bene. Di bene tre, vai, velocemente. Beyoncé, Christina Chilera e in italiano Mina. Mina, eh va bene, hai scelto tanto, hai scelto tanto. Senti, Marzia, io volevo chiederti anche qualche progetto futuro. Corro perché in realtà abbiamo già i nomi dei vincitori, quindi dobbiamo fare presto. Allora in bocca al lupo, Marzia. Viva il lupo. Lascia pure il microfono e complimenti per la tua carriera che sarà sicuramente brillantissima.